Amadeus accena con Chiara Ferragni la proposta per Sanremo 2024 e la doccia fredda per il conduttore. Amadeus starebbe corteggiando l'influencer per tornare sul palco dell'Ariston l'anno prossimo, la sua risposta. Chiara Ferragni a Sanremo 2024? Stando a quanto riporta il magazine esperto di Gossip Key. Amadeus avrebbe già cominciato a corteggiare l'influencer affinché possa tornare un'altra volta al suo fianco l'anno prossimo. A quanto pare, il conduttore sarebbe rimasto molto colpito dal lavoro fatto dalla Ferragni durante l'ultima edizione della Kermess musicale e, per questo, sarebbe già deciso a fare il bis. Ma, questa volta, non solo per due serate, bensì per l'intera durata del festival. Pochi giorni fa, i due hanno condiviso delle foto su Instagram mentre si trovavano a cena insieme alla moglie del conduttore, Giovanna, e pare proprio si siano ritrovati per parlare proprio di questa nuova proposta. Quella più restia, però, sarebbe l'imprenditrice digitale. Dopo la grande attenzione mediatica generata dalla sua presenza, oltre che dal diverbio matrimoniale con Fedez avvenuto durante la serata finale, Chiara avrebbe varie perplessità e sarebbe più propensa verso il no. Non resta che attendere per scoprire quale sarà la decisione... ... 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